E non so se il cinema ha bisogno, il cinema italiano ha bisogno della vita di Adelo, secondo me io avrei bisogno di un paese dove si può fare la vita di Adelo. Non avrei mai pensato che suonare un campanello potesse farmi tanta paura. Forza Gianni. Dai, che ci vuole? Che cos'è Adelo e quanto il cinema italiano avrebbe bisogno di Adelo? Non so se il cinema italiano ha bisogno della vita di Adelo, secondo me io avrei bisogno di un paese dove si può fare la vita di Adelo. La vita di Adelo è una storia di omosessualità tra due uomini con sesso esplicito, come era la vita di Adel. Però con due uomini pelosi, possibilmente. Io amerei vivere in un paese dove puoi fare questo. Non credo che sia questo il paese. Se lo è e qualcuno mi sorprende, io sono felice, lo dico prima. Non è che voglio essere io a fare la vita di Adelo. Chiunque lo faccia mi farà con te. Tu torni a Venezia dopo, eri già venuto nel 2011 con L'Ultimo Terrestre, ritorni con il ragazzo più felice del mondo. Cosa è cambiato nel cinema di Gipi in questi anni? E come secondo te il cinema è cambiato all'interno dei festival? Perché hanno fatto un bel percorso i festival nel frattempo in questi anni. Allora, riguardo alla seconda domanda, non ne ho la più palida idea. Perché io vivo isolato, non vedo quasi nessuno se non i miei amici più stretti. Sto sempre a lavorare, a scrivere, a disegnare o a girare roba. Non ho idea di come sia il mondo del cinema, il mercato del cinema, quello dei festival. Non ne so veramente niente. So cosa è cambiato per me dal 2011 a ora. Sono invecchiato di sette anni, L'Ultimo Terrestre era il mio primo film. L'avevo fatto come se dovessi prendere la patente dal regista, con tantissima paura, tantissima cautela anche. E invece questo l'ho fatto con tutta la libertà possibile. Proprio tutta l'anarchia anche possibile che riesco a mettere in un lavoro. Partendo da questo che mi hai detto, il film ha, diciamo, hai riscontrato qualche difficoltà perché in realtà hai coinvolto tanti dei tuoi amici, nonché colleghi, che molti di noi conoscono. Ma anche per quanto riguarda il reparto tecnico, non tutti erano proprio dei professionisti del settore. Allora, quelli che vengono messi in scena come il fonico, no. Ma in realtà io avevo un vero fonico dietro le spalle. E anche il mio operatore, che è un mostro in macchina, io gli chiedevo a volte di avere delle imprecisioni per dare l'idea che fosse uno che non sapeva fare benissimo il suo lavoro. In realtà è veramente un fuoriclasse. E avevo una truppa di ragazzi tutti giovanissimi. Proprio nessuno quasi, penso, arrivava a 30 anni. Bravi da morire. E tutto il lavoro ha avuto anche quel taglio, anche per proprio il sistema produttivo, che era agilissimo. Eravamo una squadra di ninja piccolina che si muoveva rapidamente, che reagiva alle situazioni in un attimo, che potrebbe decidere da un giorno all'altro andare a girare le terme di Saturnia senza dover muovere camion, eccetera. Ed è importante avere una struttura così agile per un film del genere. Adesso cinema, serie tv e fumetto iniziano, stanno andando veramente di pari passo. Con Venezia quest'anno lo vediamo tantissimo, perché oltre che ci sei tu con i tuoi film, poi c'è la trasposizione di Professione dell'Armadillo, c'è anche tanta serie tv, ieri c'erano i Coen. Come mai Il ragazzo più felice del mondo nasce direttamente come un film? L'hai subito pensato come un film? L'ho pensato come documentario, in realtà. E poi è diventato un film di finzione durante la lavorazione. Perché mi piaceva l'idea di fare una cosa chiusa, finita, così. Sinceramente, solo dopo averlo chiuso mi sono detto ok, ma c'è ancora gente che va al cinema, mi sono posto la questione, ma durante no, io avevo solo voglia di raccontare una storia. Cioè, sai quanti progetti metto in piedi dove non ho la più pallida idea se abbiano un mercato, un pubblico, eccetera. Io mi muovo solo sull'onda della passione e dell'incoscienza sostanzialmente. E anche qui è stato così. Cioè, il desiderio e basta. Invece, visto che magari qualcuno non lo sa perché non l'ha letto, il ragazzo più felice del mondo non ha letto la storia. Ragazzo, perché il ragazzo più felice del mondo? Chi è questo ragazzo più felice del mondo? Beh, la storia nasce da una cosa vera, cioè da una lettera che io ho ricevuto nel 97 da un ammiratore di 14 anni. Tieni conto che nel 97 non mi conosceva nessuno nel mondo del fumetto, nessuno. Mi arriva una lettera di carta scritta a mano dove lui mi chiede un disegno in regalo, uno schizzetto, e mi dice che se ricevesse questo schizzetto sarebbe il ragazzo più felice del mondo. Salto di 20 anni, aprile 2017, Facebook, un mio collega fumettista pubblica una fotografia che ha appena scattato a una lettera di carta che gli è appena arrivata da un ragazzo di 14 anni che gli dice che lui è il suo autore preferito e che se ricevesse uno schizzetto sarebbe il ragazzo più felice del mondo. La cosa mi lascia di sasso perché la lettera è praticamente identica alla mia di 20 anni prima. Questa persona ha ancora 14 anni mentre io sono invecchiato tantissimo, quindi rosico pure. E da lì mi sono messo a ricercare per vedere se altre persone avevano ricevuto una lettera simile e ne ho trovati un'infinità. E ho capito che c'era qualcuno che per 20 anni faceva questa operazione. E io volevo sapere chi era, raccontarlo, eccetera. Io chiudo con un'ultima domanda che riguarda sia un po' il festival che i social. Parto dal contesto del festival. Quest'anno nei giornalisti abbiamo un embargo. Un embargo che riguarda molto i social. Non possiamo assolutamente commentare il film se non quando il pubblico lo ha visto. Perché il giudizio incide molto poi sui registi che non la prendono sempre benissimo. Quanto secondo te nel mondo dell'arte e anche in quello del fumetto il giudizio dei social sta influenzando un pochino le arti, appunto. Beh, se uno si fa influenzare dal giudizio degli altri su quello che fa intendo influenzare, non intendo soffrire o meno ma proprio influenzare e se non le deve cambiare mestiere. Semplice. Io soffro tantissimo per le critiche negative ma nessuna critica negativa mi ha mai spinto in una direzione diversa da quella che avevo in mente. Come nemmeno una positiva mi ha spinto a continuare su una linea che magari per me era esaurita solo per chi aveva funzionato. I social permettono solo una comunicazione più ampia non è che sono il demonio cioè voglio dire, è come il telefono un tempo, no? Cioè lo puoi usare per fare gli scherzi telefonici alle vecchiette alle tre di notte ma magari lo fai all'inizio io mi ricordo dai ragazzini facevano gli scherzi telefonici poi quando il mezzo di comunicazione diventa normalità smetti. Io spero che anche i social si normalizzino col tempo che si capisca che hai le stesse irresponsabilità che hai nella vita reale che puoi far soffrire le persone se le dici delle cattiverie esattamente come nella vita reale spero che col tempo si modulino e si attenui anche l'ondate di odio che ci sono. Il problema è che la politica usa i social per fare la loro propaganda e quindi purtroppo non spinge in quella direzione ma spinge in una direzione opposta. Però non credo mai nei mezzi come mezzi negativi che possono veramente influenzare e quello dipende tutto dalle persone insomma in sé per sé. E poi la cosa che più mi irrita è la presa per il culo capito? Noi non siamo niente comparse nella sua storia del cazzo ecco cosa siamo. Vabbè ragazzi di qualcosa bisogna morire. C'è una persona della quale conosco nome e cognome che da tantissimi anni finge di essere un ragazzino. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.